buongiorno buongiorno con le stelle io sono monica amarillis e questa è la mia rubrica astrologica per prenotare una consulenza e il tuo oroscopo personalizzato scrivi a info chiocciola monica amarillis.com e siamo nella settimana che va dal 27 marzo al 2 aprile 2023 la settimana scorsa abbiamo avuto tantissime novità astrologiche e adesso le rivediamo anche perché questa settimana invece non ci saranno passaggi rilevanti non ci sono cambiamenti di segno da parte dei pianeti a parte ovviamente la luna e quindi rivediamo come è la situazione planetaria in questo momento abbiamo visto che plutone è entrato nel segno dell'acquario dopo 15 anni passati trascorsi in capricorno e questo primo passaggio di questo pianeta che vi ricordo un pianeta lento quindi segna soprattutto le generazioni per quest'anno avviene solo per tre mesi quindi sostanzialmente adesso da fine marzo alla metà di giugno circa perché poi plutone rientra in capricorno e per via del moto retrogrado e poi rientrerà in acquario l'anno prossimo già a gennaio però possiamo forse già vedere gli anticipi di quello che ci aspetterà nei prossimi 18 20 anni vi ricordo tra l'altro che tra il 25 dal 2025 il 2026 cambieranno di segno altri due pianeti lenti nettuno e urano quindi ci sarà sicuramente un grosso cambio di paradigma storico per il momento vediamo intanto cosa combinerà plutone in acquario e come dicevo la settimana scorsa per chi si aspetta un periodo tutto peace and love con l'acquario più forte proprio per via del transito di questo pianeta rimarrà purtroppo deluso perché sebbene si dica e siamo nella nell'era dell'acquario sta iniziando l'era dell'acquario tutto questo ovviamente non c'entra con plutone in acquario ma con la precessione degli equinozi ebbene dimentica che l'acquario si è un segno equanime che ama l'equilibrio che non ha mai conflitti però allo stesso tempo è un segno freddo molto razionale ma poco umano e quindi l'umanità la compassione sarà un po carente nel periodo con plutone in acquario e si tenderà soprattutto a rilanciare e a rafforzare la tecnologia la robotica quello che sostanzialmente stanno definendo transumanesimo che non è affatto detto che sia tutto rose e fiori anzi quindi apriamo bene gli occhi e cerchiamo di capire cosa sta succedendo settimana scorsa abbiamo poi avuto anche il passaggio di marte nel segno del cancro dopo ben otto mesi nel segno dei gemelli e anche questo è finalmente un movimento quindi sblocca sicuramente alcune situazioni che si erano un po in cancrenite ora marte in cancro non è nella posizione più forte per il pianeta vi ricordo che marte è esaltato nel capricorno che è il segno opposto al cancro e quindi in linguaggio tecnico in astrologia si dice che marte è incaduta nel cancro però sicuramente va a irrorare di energia i segni d'acqua e di terra questo mese poi abbiamo avuto un altro spostamento importante di pianeta cioè saturno dopo due anni e mezzo nel segno dell'acquario è entrato in pesci abbiamo visto subito una bella crisi bancaria oltre oceano ma questo ha avuto degli effetti anche poi da noi a livello globale perché spesso la vergine rappresenta proprio le banche il risparmio la conservazione delle risorse e quindi saturno che rappresenta la limitazione lo sfoltimento il rigore ebbene subito facendo posizione al segno della vergine abbiamo visto è iniziato subito una bella crisi bancaria ricapitolando dunque iniziando dal pianeta più lento abbiamo plutone a zero gradi dell'acquario nettuno a 25 gradi dei pesci urano a 16 gradi del toro saturno a due gradi dei pesci giove a 17 gradi dell'ariete marte in questo momento è a zero gradi del cancro venere a 12 gradi del toro mercurio a 16 gradi dell'ariete il sole andrà in questa settimana tra i 6 e i 12 gradi dell'ariete e la luna inizia la settimana nel segno dei gemelli per finire domenica nel segno della vergine vediamo dunque cosa questo comporta per ogni segno e come sempre iniziamo col primo segno dello zodiaco l'ariete il segno che è da inizio alla primavera che una volta corrispondeva anche all'inizio dell'anno abbiamo visto che in ariete ci sono tanti corpi celesti c'è il sole ovviamente in questo periodo che è sotto legida appunto dell'ariete che significa semplicemente che il sole sta passando in quella porzione di cielo che corrisponde al segno dell'ariete ai 30 gradi nel cerchio zodiacale dell'ariete anche mercurio è in questo segno e giove e purtroppo giove non rimarrà molto in questo segno è stato a lungo l'anno scorso nei primi 10 gradi dell'ariete e adesso sta percorrendo le altre due decadi e purtroppo lo fa molto in fretta e quindi chi appartiene alla seconda la terza decade dell'ariete ma anche dei segni degli altri segni di fuoco purtroppo dovrà cogliere al volo la fortuna perché sarà veramente un tram che passa molto velocemente e non si fermerà a lungo alla fermata quindi bisogna cogliere al volo le occasioni che si presentano carissimi appartenenti ai segni di fuoco in questo momento poi plutone che si è spostato un pochettino fa un buon aspetto a chi è nato all'inizio del segno dell'ariete ma rimane ancora un'ombra per chi è nato alla fine del segno proprio negli ultimi giorni del segno dell'ariete ormai si tratta veramente di scampoli di questo transito che è stato pesante soprattutto gli ultimi anni e gli ultimi mesi per chi appunto appartiene alla terza decade e soprattutto agli ultimi giorni è nato negli ultimi giorni del segno dell'ariete per chi invece è nato all'inizio del segno plutone porta una nuova fiducia in se stessi un nuovo coraggio la capacità di andare a fondo nelle cose sia le proprie cose personali che di lavoro e insegna soprattutto a credere in se stessi marte dopo essere stato positivo all'ariete per tutti questi mesi appunto questi sette otto mesi appena trascorsi è entrato in un segno che invece cozza un po con l'ariete per cui sappiamo che marte è il pianeta governatore per eccellenza dell'ariete per cui vedremo degli alti e bassi energetici anche irritazione incapacità di controllare bene il proprio temperamento ma allo stesso tempo non ci sarà quella grinta e quell'energia che di solito contraddistingue gli arieti e questo in questo momento ovviamente per questa settimana questa situazione influenza chi è nato all'inizio del segno va alla grande invece la seconda decade dell'ariete e vediamo dal punto di vista emotivo emozionale sappiamo che la luna rappresenta la nostra intimità la nostra emotività e quindi i movimenti della luna molto veloci di solito la luna trascorre un paio di giorni in ogni segno possono determinare un po il nostro umore la nostra condizione vitale ebbene la luna inizia la settimana in un segno amico dell'ariete e quindi i primi due giorni della settimana sono piuttosto pimpanti sarete pimpanti amici dell'ariete attenzione però alle giornate centrali e cioè dal pomeriggio di martedì fino a tutto giovedì tornate allegramente energici e pimpanti a partire dal venerdì e quindi sostanzialmente per quasi tutto il weekend per gli amici del toro abbiamo una situazione piuttosto tranquilla in questo momento gli astri sono veramente dalla vostra parte forse fa eccezione chi di voi è nato il primo il secondo giorno del segno perché cominciate a sentire la dissonanza di plutone e quindi potrebbe esserci una sorta di requietezza che vi pervade cominciate a sentire questa sorta di brivido di voglia di cambiare qualcosa ma non capite bene che cosa tutti gli altri invece il resto della prima decada e la seconda e la terza decada vanno veramente alla grande perché i pianeti sono praticamente tutti dalla vostra parte cari amici del toro saturno ha smesso di fare dissonanza nei vostri confronti e è entrato in una posizione favorevole quindi vi aiuterà a costruire a perseverare a portare avanti i vostri progetti a essere particolarmente concreti e pragmatici e in questo momento saturno sta aiutando la prima decade inoltre avete urano e venere nel segno quindi abbiamo venere che passa dai sedici no dai dodici scusate ai venti gradi del segno quindi praticamente quasi tutta la seconda decade e venere è la signora del vostro segno è la governatrice del segno del toro e quindi porta sicuramente voglia di socialità voglia di mettersi in contatto con le altre persone di passare dei momenti piacevoli e magari amori flirt soprattutto per chi è single ovviamente per chi non è single per chi è in coppia invece aiuta ad armonizzare meglio le proprie relazioni urano è un'influenza dinamica che un pochettino vi sconvolge diciamo la verità però vi aiuta anche a muovervi e a realizzare ebbene anche urano è nella seconda decade in questo momento tra l'altro appunto questa settimana ci sarà la congiunzione tra venere e urano che è una cosa positiva che potrebbe far nascere molti nuovi amori soprattutto chi è nato per l'appunto nella seconda decade non solo del toro ma anche degli altri segni di terra e anche di cancro e pesci quindi marte è anche in posizione favorevole al toro e in questo momento si sta occupando sempre della prima decade quindi prima e seconda decade sono molto sollecitate dagli aspetti dei pianeti e sono spinte ad agire a essere dinamiche per quanto riguarda la terza decada invece abbiamo un'altra influenza favorevole quella di nettuno solo che l'influenza di nettuno è sempre molto sottile molto difficile d'accogliere perché spesso influenza il nostro inconscio influenza il nostro mondo onirico influenza la nostra capacità di visione la fantasia la spinta artistica e questo già il toro è un segno artistico quindi per chi è nato nella terza decade ci potrebbe essere questa influenza che però non avviene solo questa settimana è di lunga durata sta durando già da almeno l'anno scorso se non di più ebbene spinge a fare dei cambiamenti delle trasformazioni interiori o comunque a riversare questa energia soprattutto in attività creative e artistiche la luna per buona parte della settimana è in segni neutri o a voi favorevoli e soprattutto nelle giornate tra il pomeriggio di martedì e la sera di giovedì quindi quelle sono le giornate per voi più favorevoli cari amici del toro mentre invece attenzione perché da venerdì fino alla mattina di domenica con la luna del segno del leone potreste avere un po le scatole girate quindi potreste essere più inclini a essere coinvolti in qualche discussione torna la luna favorevole domenica pomeriggio gemelli abbiamo visto che ha perso la presenza di marte che forse ha dato grande grinta dato grande dinamismo voglia di agire però allo stesso tempo anche forse reso un po irrequieti i nostri amici dei gemelli adesso arriva saturno non a rendervi irrequieti ma magari a farvi vedere le cose in modo un po più restrittivo saturno è sempre un po un richiamo alla realtà e quindi spesso la sua influenza è un pochettino pesante qua soprattutto quando ovviamente il pianeta è dissonante perché quando il pianeta è in buona posizione ci aiuta a diventare più seri più costruttivi ebbene non è il caso vostro amici dei gemelli in questo momento perché saturno è dissonante soprattutto a chi ovviamente fa parte della prima decade e dei primi giorni sostanzialmente del segno perché saturno in questo momento è a due gradi dei pesci e quindi appunto dissonante a chi è nato nei primi 4 5 giorni del segno potreste già sentire un po di pesantezza un po di limitazioni per cui magari vorreste liberarvi e non sarà facilissimo potrebbero esserci più responsabilità da assumersi più fortunata è sicuramente la seconda decade tra voi amici dei gemelli perché c'è il sole c'è giove e anche mercurio che per buona parte della settimana sono in posizione favorevole quindi c'è una bella vivacità è una situazione frizzante soprattutto per quanto riguarda gli scambi di idee la comunicativa insomma la vostra vita sociale sicuramente ne beneficia per la terza decade c'è appunto la dissonanza di nettuno che dura ormai da tantissimo lo sappiamo resistete ancora un po cari amici ormai se mi seguite da un po avrete imparato che nettuno porta illusioni e porta a vivere in un mondo di fantasia distaccato dalla realtà e questo potrebbe portare a prendere lucciole per lanterne quindi fate attenzione sempre a tenere bene i piedi ben piantati a terra la luna questa settimana inizia il percorso proprio nel vostro segno quindi lunedì e martedì sarete belli carichi e c'è da dire che per tutto per le altre giornate anche la luna passa in segni o neutri oppure favorevoli per esempio venerdì sabato e fino alla mattina di domenica sarà in leone un altro segno vostro amico per cui anche il weekend sarà trascorso in modo vivace e allegro il cancro abbiamo visto che ha acquisito marte che non è proprio il pianeta più in sintonia con il carattere del cancro però sicuramente da una bella spinta all'azione all'energia visto che avete avuto per tantissimo tempo plutone contro e quindi è una spinta che sicuramente sarà gradita e ovviamente per il momento influenza coinvolge chi di voi è nato nei primi giorni del segno i quali ricevono anche il buon aspetto di saturno quindi finalmente energia a vostra disposizione e anche capacità di portare avanti i vostri progetti capacità di costruzione insomma le cose si stanno mettendo bene soprattutto per chi di voi appartiene alla prima decade per la seconda decade le cose sono un po più sfumate perché da un lato avete il buon aspetto di urano e di venere quindi sicuramente delle influenze molto costruttive molto dinamizzanti dall'altro in questo momento c'è la dissonanza di sole giove e in parte almeno fino a metà settimana anche quella di mercurio quindi sicuramente siete molto sollecitati ma potreste non sempre avere un comportamento coerente e potreste un po disperdere le vostre energie la terza decade riceve il buon aspetto di nettuno che abbiamo visto quando è positivo vi aiuta avere un intuito molto forte a essere più creativi più fantasiosi e portare un po un pizzico di genialità nelle vostre cose della vita quotidiana la luna sarà sempre benevola con voi una la vostra signora per eccellenza e passerà proprio nel vostro segno dal pomeriggio di martedì fino a tutto giovedì che sono sicuramente le giornate per voi più interessanti il leone in questo momento sta vivendo un momento direi felice perché a sua disposizione il sostegno di vari astri il sole prima di tutto che sta passando in ariete quindi un segno amico giove che porta fortuna amplifica fa tornare la fiducia in se stessi e ce n'era bisogno perché il leone l'anno scorso ha passato diciamo dei momenti un po pesantucci con l'opposizione di saturno e la dissonanza di urano ebbene urano c'è ancora e sta diciamo rompendo un po le scatole a chi appartiene alla seconda decade però saturno adesso si è tolto dall'opposizione per cui sicuramente i leoni stanno percependo una sorta di leggerezza maggiore in questo momento quindi è il momento di darci dentro leoni soprattutto se appartenete alla seconda decada in questo momento nonostante la quadratura di urano avete comunque il supporto di giove che apre parecchie porte in amore potreste essere un po troppo esigenti e quindi fate attenzione a non tirare troppo la corda con la persona del cuore la luna sarà sempre favorevole per tutta la settimana per cui l'umore sarà veramente alle stelle e in particolar modo quando la luna passa nel vostro segno ovvero da venerdì fino al primo pomeriggio di domenica per la vergine si tratta di un periodo un po strano un po ambivalente perché diciamo avete avuto parecchi supporti negli scorsi anni soprattutto avete ancora quello di urano che sta adesso influenzando la seconda decade vi sta diciamo spronando ad agire a realizzare però avete avuto nettuno opposto in questo momento si sta ancora occupando dichiarato nella terza decade e da qualche settimana da un paio di settimane avete anche saturno contro e in questo caso sono coinvolte le persone che sono nate all'inizio del segno nettuno vi fa vedere cose che non esistono vi potrebbe illudere su alcune situazioni quindi questo terza decade mentre invece la prima decade attenzione perché probabilmente dovrete tornare un po coi piedi per terra e assumervi maggiori responsabilità ci potrebbero essere delle situazioni un po gravose che incombono marte però si è anche trasformato in amico mentre prima era insomma vi stava un po rompendo le scatole diciamo la verità invece adesso vi dà comunque grinta forza coraggio e volontà anche venere è dalla vostra parte soprattutto in questo momento sta armonizzando le relazioni dichiarato nella seconda decade emotivamente la settimana non inizia benissimo con la luna dissonante ma poi già dalla dal pomeriggio di martedì le cose cambiano e diventa tutto molto più armonico e più fluido gli amici della bilancia dovranno resistere un pochettino ancora finché almeno non passano questi transiti dal segno opposto dall'ariete e anche fin quando marte non finisce il suo transito nel segno del cancro che è un'altra posizione dissonante per la bilancia in questo momento l'unico pianeta che vi sostiene è quello che vi ha dato più da fare negli ultimi anni cioè plutone plutone è entrato in posizione armonica ma probabilmente ancora non riuscite a sentire il suo effetto primo perché coinvolge solo chi è nato nei primi giorni del segno e poi perché appunto è un effetto molto di lenta e lunga durata e quindi si sentirà si percepirà col tempo e soprattutto a partire dall'anno prossimo quindi care bilancio in questo momento non avete molti sostenitori in cielo e quindi resistete e cercate di tenere almeno alto l'umore cosa che sarà facile lunedì e martedì e anche nel weekend a partire da venerdì attenzione invece alle giornate dal che partono dal pomeriggio di martedì fino a tutto il giovedì perché la luna sarà in cancro un segno per voi dissonante e quindi probabilmente cederete un po al malumore sarà bene insomma questa settimana non strafare non buttarvi in progetti troppo impegnativi perché le energie fisiche mentali e anche morali non vi sostengono del tutto a meno che ovviamente non abbiate dei pianeti personali in altri segni che vengono invece sostenuti dai transiti cosa che è possibilissima per esempio se avete dei pianeti in scorpione in questo momento ricevono il sostegno di saturno altrimenti cercate di resistere e aspettate tempi migliori che arriveranno comunque presto arriviamo allo scorpione ecco un altro segno che è stato molto tartassato dai pianeti negli ultimi mesi direi anni e che sicuramente in questo momento comincia a respirare un po sostanzialmente in questa settimana ci sono sempre il transito di urano e quello di venere che in questo momento colpiscono chi di voi appartiene alla seconda decade quindi con un po di irrequietezza un po di malumori soprattutto dal punto di vista emotivo sentimentale però cominciate ad avere il buon transito di saturno soprattutto per chi è nato all'inizio del segno e anche quello di marte che ovviamente coinvolge sempre chi è nato all'inizio del segno per cui insomma la prima decade è quella più fortunata sicuramente in questo momento la terza decade riceva il buon aspetto di nettuno che è un aspetto di lunga durata che sta durando ormai da parecchio tempo e che aumenta il vostro intuito la vostra perspicacia la vostra capacità di guardare a fondo le cose e anche la vostra creatività per quanto riguarda l'emotività abbiamo un picco di buon umore a partire dal pomeriggio di martedì fino a tutto il giovedì attenzione invece dal venerdì fino al mezzogiorno di domenica perché la luna dissonante potrebbe giocarvi qualche piccolo scherzo magari farvi vedere le cose in modo non del tutto limpido potrebbe esserci qualche distorsione cognitiva e potreste prendere delle situazioni neutre o assolutamente normali per cose contro di voi proprio perché siete reduci da transiti un po pesanti e diciamo la verità negli ultimi anni siete diventati un po un pochettino paranoici ma su con la vita perché le cose stanno cambiando per il sagittario c'è stato un cambio della guardia cioè esce un pianeta dissonante ne entra un altro e quindi è uscito marte da otto mesi dissonante ma purtroppo è entrato saturno in a posizione dissonante e quindi diciamo che le cose un po si equivalgono anche se forse l'innervosismo sarà minore però attenzione per chi è nato soprattutto all'inizio del segno potrebbero esserci un po dei momenti di sconforto di pensare che non siete in grado di portare avanti certe cose no tranquillamente piano piano portate avanti tutti i vostri progetti perché riuscirete chi appartiene alla seconda e anche la terza decada in questo momento si sente molto più energizzato grazie al transito del sole di giove di mercurio e quindi insomma c'è un bel fermento soprattutto di contatti di idee di iniziative la terza decada risente però sempre anche della dissonanza di nettuno quindi attenzione aprite bene gli occhi per non farvi ingannare da delle occasioni che poi si riveleranno invece non dico delle truffe però insomma cose qui è meglio fare attenzione andare cauti il capricorno che è andato alla grande per tantissimo tempo negli ultimi anni devo dire adesso sta avendo un po un down energetico diciamolo ci sono tre astri nel nella riete che quindi è un segno dissonante al capricorno c'è marte in segno nel segno opposto e quindi tutto questo vi porterà forse a essere un po meno determinati un po meno pimpanti del solito ma ci vuole anche è giusto che ci sia anche un'onda di reflusso perché non si può sempre solo andare avanti andare avanti andare avanti accumulare cari capricorni quindi prendetevi un momento di pausa un momento di riposo e cominciate a verificare analizzare valutare tutto ciò che di buono avete fatto finora e insomma dove volete andare da ora in poi dalla vostra parte ci sono venere urano quindi sicuramente novità in amore per chi di voi appartiene alla seconda decade e anche saturno e nettuno sono vostri alleati quindi non è che tutto vada male anzi diciamo che le cose un po si equivalgono quindi c'è una situazione sicuramente un pochettino più statica rispetto al passato emotivamente a settimana non eccellente perché la luna o in segni neutri o in un segno come il cancro assolutamente a voi ostile quindi attenzione soprattutto le giornate dal martedì al giovedì il vostro umore non potrebbe potrebbe non essere dei migliori ovviamente come sempre è una cosa molto temporanea l'acquario abbiamo visto settimana scorsa dato addio l'addio a saturno che è un suo pianeta governatore e ha dato il benvenuto a plutone anche se quest'anno solo per tre mesi plutone è un'influenza che dà molta fiducia in se stessi nelle proprie risorse nelle proprie possibilità in questo momento comincia ad agire su chi è nato all'inizio del segno ma avete tanti tante frecce al vostro arco in questo momento ci sono sole giove e mercurio dalla vostra parte questo influenza soprattutto i nati nella seconda e nella terza decade vivacizzando la vita sociale la vita amorosa la vita lavorativa ecco dal punto di vista amoroso venere non è certo nella posizione migliore rispetto a voi quindi attenzione a non esigere troppo dal partner settimana inizia molto bene lunedì martedì con la luna in un segno amico ma attenzione all'umore che potrebbe cedere a partire da venerdì fino a domenica mattina eccoci all'ultimo segno i pesci che in questo momento può dormire tra quattro guanciali perché sostanzialmente non ha rivali non ha nemici in cielo l'unica nota dolente potrebbe essere proprio saturno appena entrato nei pesci che comunque è sempre un'influenza anche quando è positiva un po' restrittiva un po' limitante quindi porterà a essere più seri più posati ecco magari a essere più responsabili non avete dissonanze in questo momento e invece i pianeti in toro urano e venere sono dalla vostra parte nettuno è sempre nel vostro segno marte anche è dalla vostra parte e vi dà energia lunedì martedì non saranno forse le giornate migliori ma da martedì pomeriggio con la luna nel segno del cancro sarete più intuitivi del solito insomma il vostro amore umore andrà alla grande anche l'amore ma soprattutto l'umore ebbene abbiamo terminato anche questa settimana non mi resta che augurarvi un'ottima settimana un ottimo inizio del mese di aprile e dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com oppure potete scrivermi all'email info chiocciola monica marillis.com